Salve di nuovo. 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 ma uno di essi è superiore agli altri. C'è dell'altro. Nel video sul Pentateuco spiegavo come l'alfabeto ebraico derivasse da quello aramaico, che era parlato dai popoli nemici di Israele, come i babilonesi, da cui lo hanno imparato. Per cui, l'ebraico fu messo per iscritto grazie a Babilonia, e gli ebrei iniziarono a parlare aramaico, Gesù compreso, e vari elementi furono presi dai babilonesi, come la creazione. Nonostante l'originalità c'è da evidenziare l'influenza dei miti orientali nella Genesi biblica. A tal proposito vi lascio anche un riferimento bibliografico cartaceo, perché il web è pieno di roba complottista e ufologica a riguardo, e sottolineo che almeno nella Genesi e nei libri più antichi, come ci conferma il Talmud, l'immagine del mondo secondo gli ebrei era la stessa dei popoli medio-orientali. La Terra era vista come un disco piatto, con sopra il firmamento, di cui si fa espressa menzione nella Genesi, che era una cupola. Il mondo poi era retto da delle colonne, menzionate chiaramente in molti passi biblici, e sotto la Terra c'era la Sheol, in luogo dei morti. Come vedete è inutile cercare il pelo nell'uovo eliminando ogni elemento ritenuto pagano di origine pagana, soprattutto se babilonese, altrimenti dovremmo buttare via persino la lingua ebraica, e le parti del Vangelo di origine aramaica, uno dei concetti ai quali i TDG sono ovviamente legati al Paradiso. Ovviamente è presente anche in altre religioni, ma quello dei TDG è quello che assomiglia di più al significato originario della parola. Questa parola ha origine persiana e indicava i giardini veri. Anche nella Bibbia l'Eten era descritto come un giardino. Questa parola fu trasposta in greco, poi in latino e poi nelle lingue moderne. Nel Nuovo Testamento poche volte si nomina il Paradiso, non saprei se nella mente degli autori biblici sarebbe stato questo il termine più adatto a indicare il luogo dove resiederanno i giusti dopo la Resurrezione. Anche perché l'Apocalisse parla della Nuova Gerusalemme, quella celeste, che viene a sostituire i Cieli e la Terra dopo la loro distruzione. Ma per loro ci vanno solo 144.000, gli altri rimarrebbero sulla Terra ma va a me. Di fatto, sia il concetto e soprattutto la parola Paradiso derivano dai popoli circostanti, soprattutto ai persiani. Quindi non solo l'Ades è di origine pagana, in questo caso greca, anche se è un concetto presente sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento, ma anche il Paradiso stesso, soprattutto per come lo vedono i TDG, perché nella Bibbia è sicuramente una cosa diversa rispetto al paganissimo, sia che lo si intenda come stato intermedio che come destino escatologico. Per concludere, di quante altre cose di origine pagana i TDG non riescono a fare a meno? Ad esempio il calendario gregoriano, i giorni della settimana, i numeri arabi, perché non rinunciano anche a quelli? Ve li immaginate a contare gli anni secondo il calendario ebraico? Già sono ridicoli quando dicono era volgare al posto di dopo Cristo. Grazie per l'attenzione, spero che questi video vi siano piaciuti. Alla prossima!